ecco ora che abbiamo fatto il nostro player dobbiamo scriptarlo per farlo muovere lo scripting lo vediamo lo impareremo in questo corso non è difficile ma ha una serie di complessità quindi per il momento useremo un script già fatto quindi andiamo qui vi darò poi il ci sono abbastanza diversi script del genere questo qui è uno tra i più semplici diciamo che ho trovato quindi se noi prendiamo questo link prendiamo il row e ci costruiamo uno script fatto così quindi contro la contro c ho messo row prima di farlo vado qui e poi nel nostro assets video 1 tra l'altro ricordate che se voi ce l'avete così mettete questo questo cursore tutto a sinistra e qui costruite create un c sharp script che chiamerete col nome di di questo script che è player controller quindi player controller adesso si chiama new behavior script noi chiamiamo player controller e mettiamo sempre tutto sotto la nostra cartella qui facciamo doppio click per accedere al visual studio adesso per scriptare ho visto che in effetti conviene rimanere su visual studio se volete proprio farlo in maniera pesante qui visual studio code invece che ho fatto vedere in uno dei video si può usare adesso io ho selezionato tutto ho fatto contro di ho messo questa nuova cosa vedete che praticamente abbiamo messo il nostro il nostro oggetto che vedete che dipende da alcune caratteristiche esterne che sono questi public qua quindi c'è un character controller una speed che mi sembra che tre sia poco poi lo vediamo c'è anche un animator animator per il momento lo togliamo camera holder lo teniamo ok avendo messo barra barra sul public animator vedete che è diventato rosso un pezzo qua sotto che serviva per l'animazione del del camminare la commentiamo anche questo in modo tale da far sparire tutte le le cose strane quindi in pratica abbiamo il character controller e abbiamo il camera holder e poco più diciamo di cose un pochino più complicate allora facciamo control s quindi viene salvato questo script andiamo in unity e questo script lo mettiamo dentro il player quindi cosa facciamo facciamo player add component e cerchiamo questo player allora sarebbe questo player controller che qua eccolo qua player controller quindi gli abbiamo messo player controller player controller vedete che ha bisogno di un character controller quindi di cosa vuol dire aver bisogno di qualche cosa e che bisogna metterci dentro un qualche cosa che abbia dentro il character controller questa capsula che abbiamo messo prima dentro c'è il character controller e quindi può essere messa lì dentro poi il player vuole anche un camera holder che vuole praticamente la posizione della camera e gli metteremo la camera quindi prendiamo la capsula la trasciniamo la capsula la trasciniamo e la mettiamo dentro il character controller e poi prendiamo la main camera trasciniamo e la mettiamo nel camera holder facciamo control s e quindi a questo punto in linea teorica potrebbe funzionare nel senso che se noi facciamo play quello che succede che noi dovremmo dovremmo in teoria sotto vedete che muovendo il mouse si muove la camera e se faccio w si muove il nostro oggetto però attenzione la camera è rimasta è rimasta ferma come se non fosse figlio ah si in effetti non è figlio adesso lo vediamo un attimo si credo che l'errore fatto adesso di aver messo il character controller dentro la capsula e dobbiamo mettere dentro il player quindi facciamo che rimuoverla quindi facciamo remove component e la ricreiamo nel player quindi add component e facciamo qui character controller eccolo qua e vedete che abbiamo nel player controller che abbiamo messo il nostro script la camera c'era ma abbiamo perso il character controller e quindi lo rimettiamo quindi player è diventato questa volta lo mettiamo qua facciamo ctrl s perché c'è l'asterisco e riproviamo a vedere se funziona meglio quindi siamo in play adesso proviamo a muoverci e vedete che effettivamente adesso possiamo muoverci verso il nostro verso questo ostacolo adesso siamo un po più alti di quell'ostacolo quindi facciamo escape togliamo il play facciamo questa capsula e la ingrandiamo così vi spieghiamo brevemente quindi lo prendiamo qua e possiamo cliccando verso il centro rendere questa capsula un qualche cosa di un po più grosso e poi lo alziamo quindi l'alziamo e quindi abbiamo effettivamente un ostacolo un po più manifesto è cambiato ctrl s rifacciamo il play ok e quindi a questo punto se ci muoviamo vedete che non possiamo andare oltre perché c'è praticamente questa questo ostacolo e tutto questo però è per dirvi che abbiamo fatto una navigazione all'interno di una scena che poi oltretutto erano i corsi che abbiamo fatto negli mesi scorsi qui abbiamo la possibilità di fare anche altre cose in teoria ma non funzionano a noi interessano soltanto queste tre cose quindi poter navigare quindi ricordiamo quindi facciamo escape che abbiamo creato un empty nell'empty ci abbiamo messo facciamo stop tanto ricordatevi che quando cambiate la gerarchia dovete essere in modalità non play altrimenti non vi salva perdete un sacco di tempo a fare dei lavori che non vi servono quindi dovete sempre stoppare il gioco e poi fare le modifiche allora quindi in questo video abbiamo visto come creare un player aver messo dentro la main camera avergli messo una capsula che rappresenta il giocatore che in questo caso è una capsuletta e poi soprattutto abbiamo messo dentro il player sia il character controller che viene da Unity e sia il player controller che viene da che abbiamo scritto noi sulla base di uno script che metterò in in calce al video grazie